Ancora incendi nelle ultime 24 ore, giovedì sera le fiamme che sono state subito domate dai vigili del fuoco avevano coinvolto un'area verde che costeggia la via Federico de Roberto vicino al parco Robinson. Ma non è stata l'unica zona in provincia interessata da incendi nella giornata appena trascorsa, come nel caso di San Cataldo in Contrada Tabita, Niscemi sulla strada provinciale 11, Mazzarino con Trada Castellaccio, Mussomeli con Trada Peperone, Caltanissetta con Trada Prestiani e zona industriale. Stata alle 190, Adelia, Gela, Stata alle 11 bis, Contrada Apa, Cipollina, Spina Santa, Mussomeli, Madonne delle Vanelle. Molti incendi sarebbero stati causati dalle alte temperature, ma i vigili del fuoco sono stati impegnati anche in interventi di routine, come i casi di ascensori bloccati a causa di sovraccarico di energia elettrica. Negli ultimi giorni un vasto incendio ha anche colpito la Contrada Magna Sabucina, Contrada Stretto e Valle dell'Imera, danneggiando la vegetazione fatta di arbusti, piante tipiche della macchia mediterranea, parti di bosco di eucaliptus e anche la parte esterna di alcune abitazioni rurali, aree che per la loro conformazione geografica non erano facilmente raggiungibili. E per domare le fiamme è stato richiesto anche il supporto aereo delle squadre della forestale e di quelle boschive dei vigili del fuoco.